POKEMON X WONDERLOCK In un posto dove non ci sono mai state più di due persone, fantastico, è fine della storia, non c'è niente che abbia a che fare con la mega evoluzione? Già già, ma che sarebbe la mega evoluzione? Signore, ci risiamo, cosa così presto? Beh, temo di non poter fare molto altro allo stato attuale senza il... Scusatemi, ora devo andare al percorso 7, ma sentitevi liberi di visitare il maniero. Cosa sarà successo? Cosa facciamo? Andiamo anche noi al percorso 7? Sì, sì, sicuramente ci andiamo, non posso usare i pattini dentro l'edificio ovviamente, però... Allora, fatemi ricordare un po' in cosa consisteva l'esplorazione qua, eh? Perché, boh, sicuramente è pieno di stanze, però ce ne sono poche utili effettivamente. Allora, da qua si torna già indietro? Allora, aspettate, se qua torniamo già indietro, tanto vale esplorare anche quest'ultima zona... Ah, con una Poké Ball, fantastico, ok? Non l'avevo vista subito, che contiene una fune di fuga, strumento non eccezionale, là ci sono un po' di libri, potrei leggerli, libri diari, chiamateli come volete. Potrei leggerli, però, nota che noi vogliamo catturare nuovi Pokémon per scambiarli immediatamente e far diventare sempre più bella la nostra squadra. Allora, andiamoci da Castelvanità e proseguiamo, lungo il percorso 7. Allora, purtroppo però... Ah, qua, sì, c'è il giardino delle bacche, ecco, ricordavo che era da queste parti, però non ricordavo dove. Ehi signore, vieni qui. Senti, è un grosso favore da chiederti, vorresti coltivare questo... Ah, no, dai, fallo per me. Sì, scusa, volevo dire sì, però poi ho premuto per sbaglio il coso. Comunque, ragazzi, adesso ci viene presentato l'orto ufficiale di Pokémon X e Y. E, vabbè, praticamente, senza che stiamo a sentire quello che ci dicono, tanto prendiamoci le bacche che ci danno. E, comunque, noi con queste bacche dobbiamo fabbricare poi anche dei concimi. Poi si piantano i concimi, si piantano le bacche, si annaffiano con l'irregatode che ci è stato appena dato. E poi, vabbè, come in tutti i giochi Pokémon, si punta a coltivare, semplicemente. Mi ricordo che in Y l'avevo usato veramente molto. Ora, però, preferisco non perderci altro tempo perché, veramente, non ci conviene. Devil, da questa parte? Ah, ok, ok, ok. Prima di andare da quella parte con Shana voglio vedere un attimo nella mopa città, no? Il percorso 6. Il percorso 6 è questo? Allora, sentiero... Allora, penso sì. Ok, ho capito, ho capito dove si trova. Va bene, va bene. Allora, andiamo prima da questa parte, sì, giustamente, stavo scordando. E vediamo qua Snorlax. Devil, guarda! Ebbè, c'è uno Snorlax che ronfa beatamente. Ci resiamo, dorme proprio come un sasso e non c'è verso di svegliarlo. Guardalo, è una vera e propria montagna. È impossibile attraversare il ponte. Un momento, potresti usare il Poké Flauto. Ah no, non puoi, non ce l'è più, giusto? E già, l'ho dato via. Beh, diciamo pure che il padrone del palazzo se l'è preso. È come... Cos'è un Poké Flauto? Per farla breve possiamo svegliare Snorlax solo con il Poké Flauto. Solo che adesso il Flauto è alla Regia Aurea. E allora basta andare a prenderlo, no? Devil, andiamo alla Regia Aurea. È nel percorso 6. E poi magari lì potremo scoprire qualcosa sulla Mega Evoluzione. Allora, ho letto male io o quello era un 8? Ah no, è un 6 giusto, ok? No, infatti dicevo, perché 7 e 8 senza il 6? È giustamente questo è il 6, ok. Il fatto però che ci sia solo il 6 significa solamente una cattura. Mi sembra di aver visto una Poké Ball. Oh, me la sono immaginata. Sì, me la sono immaginata effettivamente. La Poké Ball si trova là, però per andarci penso bisogna fare tutto il giro. Oppure basta anche solo... No, bisogna fare proprio tutto il giro, va bene, dai. Quindi affrontiamo gli allenatori che troveremo sul nostro percorso. Praticamente sono dei turisti questi e ce ne sono due. Almeno io ne vedo solo due. Oh no, una turista che manda un Pikachu. Dannazione. Non mi piacciono i Mirror Match perché non potendo sparare la Stab Sono costretto ad andare di attacco rapido, anche se ci passiamo 11 livelli, dannazione. Forse attacco rapido può... No, non penso, possa bastare, però fa veramente un sacco di danni. Ora qua vediamo simpatia. E che bello, balliamo tutti e diminuiamoci l'attacco. Va bene, dai, un altro attacco rapido. E poi speriamo che questa turista non abbia più Pokémon di tipo... Elettro, perché altrimenti poi perdiamo un sacco di tempo per batterli. Togepi tanto è salito a livello 17 e vorrebbe imparare ripeti. Eh, madonna quante mosse vuole imparare Togepi. Peccato che fino ad ora non abbiamo visto roba troppo figa, quindi non gliela insegniamo. E PJ, va bene. Questa deve essere proprio una turista proveniente da Kanto a questo punto. Ci ha mostrato già due Pokémon di Kanto. Adesso bisogna vedere se anche il terzo è di questa regione. Comunque, un bel Energy Sfera e... Rip PJ. Allora, Psyduck. Ok, che Psyduck mi sembra sia di prima. Sì, dannazione, Psyduck è di prima, vero? Sì, sì, mi sembra di sì. Comunque, un'altra Energy Sfera e... Finché possiamo sparare la Stab non c'è veramente storia contro questi Pokémon. A livello basso la potenza è veramente molto alta e quindi Pikachu fa stragi. Dobbiamo stare attenti comunque, ragazzi, eh. Perché se lo portiamo oltre il 30, poi non ci ubbidirà e la strada per la palestra è veramente molto molto lunga. Quindi io spero solo di poter... Spero appunto di poter... Di poter giocare tranquillamente con Pikachu senza andare incontro a livello 30. Però mi sembra un po' difficile. Siamo già al 22 e... E boh, vabbè, vedremo. Qua ho sbagliato, dovevo andare di Energy Sfera. Giustamente adesso ho permesso a questo... A questo Zigzagoon di Reggio. Vado di Energy Sfera, va così almeno se utilizza qualche pozione roba strana che non fa, lo mando capo allo stesso, vabbè. Quindi dovremmo disattivare il condividi esperienza presto, ragazzi. Presto lo disattiveremo e giocheremo un po' altri Pokémon perché altrimenti è la fine. Allora, elettrococcola la mettiamo al posto di Tononda. Praticamente ha lo stesso effetto di Tononda, però fa dei danni e ovviamente paralizza al 100%. Allora, la prossima scelta di Ambra sarà Rals. Rals, beh, ok. Il nostro bellissimo Pikachu è pronto ad affrontarti. Un'altra Energy Sfera. Stavo pensando, stavo pensando... Elettrococcola sì, è una mossa interessante, ragazzi. Anche per catturare i Selvatici magari possiamo provare ad andare di elettrococcola. Tanto che il nostro livello è alto, ma elettrococcola ha un base power 30. Quindi addirittura meno forti di attacco rapido sotto questo punto di vista. Quindi, beh, sì. È un base power 20 più 10 di Stab, ovviamente. Quindi, sì. Potrebbe tornare molto utile per catturare i Pokémon Selvatici. Allora, comunque, abbiamo sconfitto quest'altra turista e penso che adesso la strada sia libera. Perfetto, ok. Voglio però, prima di entrare nella reggia Aurea... Ok. Questa... Non mi dire... E allenatore, voglio diventare... Cosa vuoi diventare? Ok, so come... Boh, ho tipo letto... Voglio diventare una bacca, qualcosa. Vabbè, non credo di aver letto bene, altrimenti... È un po' strana. Allora, qua... Aspetta, quello è un allenatore, non è una Pokéball. Tutte le volte che vedo qualcosa di giallo penso sia una Pokéball dell'MT, invece non lo è. Allora, Odish Selvatico contro il nostro Pikachu. L'ultimo Pokémon che abbiamo incontrato è stato un Plus... Un Plasol, comunque, che non è stato proprio così semplice da battere. Allora, tanto qua facciamo una bella elettrococcola a questo Odish e paralizziamolo. Dovrebbe essere più facile ora catturarlo. Un po' di danni, la paralisi e elettrococcola è veramente la mossa perfetta per catturare i Pokémon. Ho venduto, quando non registravo, il pezzo stella preso nella scorsa parte. Ho fatto un sacco di soldi. Dovrei spendere questi soldi in Pokéball slash Megaball. Altrimenti va a finire che ci ritroviamo senza questi oggetti. E poi diventa brutta la Wonderloc, diventa veramente brutta perché già stiamo tenendo Pokémon non fantastici. Se poi ci si mettono anche le Pokéball... È un casino, Pokéball, scusate questo gioco di parole. Allora, vuoi dare un soprannome Odish? No, non voglio darglielo. Il tempo, come al solito, vola. Quindi, senza indugiare oltre, direi di procedere con lo scambio prodigioso e di inviare immediatamente il nostro Odish. Il nostro Odish. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche bel Pokémon che veramente mi ispira, ragazzi. Ho deciso di giocare questa Wonderloc con i Pokémon che mi piacciono e che mi divertono ad usare, semplicemente. Per questo non ho messo Brilum, che sì, mi piace, però Brilum, devo dire che non mi dà proprio quella sensazione di gioia quando lo gioco. E quindi ho preferito per il momento lasciarlo là. Vabbè, Brilum ora... Abbiamo tenuto Sroomish, giustamente. Dagli Stati Uniti d'America. Lui Siano, ok? Però per il momento lo lascio là. Poi non so se in futuro proprio non becco niente. Ovviamente lo metto perché Brilum, Sroomish, è un ottimo Pokémon che appunto si evolve in Brilum, che lo è a sua volta. Oh, un Lairon, ragazzi. Allora, Lairon è... Lairon. Questo sicuramente non è briddato. Vediamo un attimo il livello, se è troppo alto lo mando subito via. Spero sia intorno al 40. Dovrebbe almeno esserlo, eh? Adesso invece sarà proprio il 30 preciso per farci uno sfregio. Vediamo, vediamo. Al 37 possiamo scambiarlo, perché noi ci uvidiscono i Pokémon fino al livello... Ci uvidiscono i Pokémon fino al livello 30. Non abbiamo scambiato Gheritas proprio perché era al 30 preciso, vi ricordate? Però adesso... Lairon... O Lairon... Lai... Lairon... Vabbè, Lairon... Iron, sì... Vabbè... È a livello 37, quindi possiamo tranquillamente scambiarlo. Aspettiamo di trovare qualcuno, dai. Abbiamo trovato un giapponese da Kanagawa. Kanagawa, spero si pronunci così... Questa zona. Allora, inviamo il nostro bellissimo cosetto d'acciaio per un... Oh! Walrein. No. Walrein, sì. Che si vuole in Wild World, penso. Controlliamo anche lui a che livello è. Soga comunque... Ah, Walmare. Walmare, sì, giusto. Confondo sempre con l'evoluzione di... Con la Foca, praticamente. I nomi sono simili, le generazioni anche... Ah, a livello 25, eh. Un altro Pokémon di tipo acqua. Forse sarà proprio ora che... Mmm... Luogo remoto... Vabbè, vabbè. Per forza lo teniamo, almeno per il momento. Non... Non posso scambiarlo perché essendo a livello... Eh, perché appunto, essendo a livello 25, ciubidisce. E poi una volta che lo faccio combattere non posso scambiarlo a prescindere. Allora. Comunque. Ciao, bello. L'ingresso costa mille a testa. Cosa? Si paga per entrare? Il padrone è dell'avviso che un po' di soldi in più non guastino mai. Ma così chi è ricco diventa ancora più ricco. E va bene, ecco i soldi. Io... Non... Non... Non volevo pagare io. Però, vabbè. Penso che il pezzo stella messo là serva proprio a farci fare soldi e poi subito a fregarceli. Vabbè, dai. Mille non sono neppure così tanti e... Va bene, va bene. Allora... Guardate come corre Shana. Cosa... Cosa avrà da correre? Veramente il nostro look non mi piace per niente. Non vedo l'ora di cambiarlo. Ok? Non posso esplorare attorno. Quindi entriamo subito nella reggia. E facciamo immediatamente quello che dobbiamo fare. Oddio. La ricchezza, ragazzi. Dove è finito? Il mio meraviglioso Furfrù. Il mio piccolo dolce Furfrù. È spar... Furfrù. Vero? È sparito. Oddio. Non ho saputo mai pronunciarne pure questo Pokémon. Allora, da notare come in questa stanza ci siano dei B-Sharp e una Milotic. Statua di Milotic. Il Pokémon considerato il più bello del mondo. Wow. Milotic. Allora, da queste parti troverai l'immenso giardino che è l'orgoglio di questo palazzo. Va bene, va bene. Non ricordo se si possa catturare qualcosa qua, sinceramente. Allora, là c'è una bellissima statua con... Io adoro un'occhiata là. No, come si chiama? Gulruk. Ecco, Gulruk. Allora, non mi sembra si possano catturare dei Pokémon qua. Non mi sembra. Ho visto correre Furfrù. Allora, prima di metterci alla ricerca di Furfrù, ragazzi, devo prendere questa MT che, se non sbaglio, è taglio. Esatto. MT, scusate, MN. Vabbè. Quindi una macchina nascosta taglio. Ovviamente il taglio è ottimo, quindi perché non prenderlo? Qua troviamo una super pozione. Beh, gli strumenti che mi servivano già li ho presi, quindi adesso posso subito proseguire con la missione di questo luogo. Allora, sì, praticamente noi dobbiamo catturare Furfrù. E per catturarlo... Allora, non scappare, vieni qui. Hey Devil, dammi una mano. Ok, sì, ovviamente ti do una mano. Ehm, lì le siepi formano un vicolo cieco. Cerchiamo di intrappolarlo laggiù. Ok, giustamente, adesso qua dobbiamo risolvere un... Dobbiamo risolvere un semplice rompicapo. Ehm, che consiste nel... Nel... Che consiste nel catturare questo Furfrù. Allora, bene. Tu mettiti qua, tanto questa prima parte è uguale. Sì, ok, perfetto, perfetto, ok. Allora, adesso noi facciamo scappare questo. Lo facciamo scappare... No, dannazione. È un semplice rompicapo, dicevo, eh. Allora, no, dannazione. Fammi pensare, vieni qua tu. Vuoi che mi sposti? Sì, io voglio che ti sposti. E allora, forse qua, qua, qua ti dovresti mettere. Ok, ok, perfetto. Adesso lui dovrebbe scappare per di qua sopra. Perfetto. Hey Devil, secondo me possiamo farcela. Magari potrei mettermi lì. Che ne dici? Non lo so, dove vuoi metterti? Vieni qua. Vuoi che mi sposti? Sì, ok, ti seguo. Controlliamo un attimo la posizione di Furfrù. Ok, sì. Penso di aver già trovato una soluzione. Perché tanto... Shanna si mette qua. Io lo spingo da qua. E lui sarà costretto a finire. Ok, nel vicolo cieco. Fantastico. Ah, bravissimo. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Complimenti Devil. Tu sì che sei per vedere i Pokémon. E' merito tu se l'abbiamo preso. Oh, grazie. Anche se non mi sono limitato che a spostarti. Ah, Furfrù. Mio adorato Furfrù. O siete stati voi a ritrovare il mio fruffullo fruffuffa da nazione Fruffrulloso fruffru Ok basta scegliere il lingua dopo i rompicapi Vorrei anche ringraziarvi per il disturbo che vi siete pressi Ci vediamo sulla terrazza ok La raggiungerete passando dal corridoio con gli specchi al primo piano Forse quel fruffru non sarà così entusiasta di essere stato ritrovato Se fossi in Pokemon non mi piacerebbe avere un allenatore come quello Comunque visto che abbiamo la possibilità di vedere i fuochi d'artificio godiamoceli Beh assolutamente sì assolutamente sì e quindi voglio andare subito alla reggia Voglio tornare subito alla reggia per vedere un po' i fuochi ragazzi Non li vedo da tantissimo quindi non mi spiace veramente per niente Allora con la medaglia in set puoi utilizzare Taglio che è lui giustamente quello che ci suggerisce che nel giardino c'è Taglio Io vabbè lo ricordavo e andiamo non per di qua ma per di qua Sì giustamente e vabbè ragazzi bella veramente quella stata con Gulruk Gulruk è un Power Ranger bello 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 Che poi sì c'è anche Bishop quindi veramente i Power Ranger hanno preso cioè hanno preso ispirazione dei Power Ranger per questa reggia Ok scherzi a parte entriamo subito dovrei andare al primo piano eh però la reggia ragazzi è veramente bella dannazione A vivere qua che figo allora Noi comunque cosa facciamo saliamo al primo piano la stanza con gli specchi ha detto eh Boh questa mi sembra uno stanzone quindi no 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 ho sbagliato potrebbe essere questa Mmm boh questa dovrebbe essere la terrazza Questa dovrebbe essere la terrazza qua c'è Shana quindi penso proprio di aver azzeccato subito alla strada Oh oh che bello Sai questa è la prima volta che guardi fuochi d'artificio con un ragazzo Oh che dolce Dark Devil non scorderò mai fuochi d'artificio che stiamo per vedere assieme Ok io sì li ho scordati e li ho visti solo due anni fa Beh oh che belli ragazzi solo che di giorno da nazione potevate almeno aspettare che venisse notte Vabbè effettivamente non si poteva perché è giorno Cioè adesso nel nostro proprio orario giorno quindi avrei dovuto fare questa parte di notte ma vabbè Ah che meraviglia voglio conservare questi bei momenti per sempre nel mio cuore Questi fuochi d'artificio per il mio forfru erano davvero purfetti Siete soddisfatti vi sono piaciuti? Ah a proposito il Poké Flauto Ah sì giusto ci servirebbe il Flauto per sbagliare lo Snorlax Ah parli del Poké Flauto vai a prenderlo forza a scattare Poverino Era il mio tesoro del maniero sottotono ma mi è stato dato per pagare dei debiti Una persona ricca come me e un tipo come quello non hanno proprio nulla a che spartire Ok Daglielo Povero Maggiordomo dai trattalo bene Otteniamo comunque il Poké Flauto Che ci servirà per svegliare Snorlax ovviamente Bene ragazzi ma ricordate che le cose prese in prestito vanno restituite Mi piacerebbe conservare tanti ricordi di questo viaggio ma quel tipo preferirei davvero dimenticarlo Cari ragazzi non immaginate quanto sia faticoso occuparsi di questo palazzo Credo di essermene fatto un'idea Beh signor Maggiordomo lei sa qualcosa della mega evoluzione Dunque ricordo di aver letto un libro sull'argomento nella nostra biblioteca Parlava di una pietra misteriosa che se tenuta in mano da un allenatore sarebbe in grado di far evolvere ulteriormente un Pokémon Purtroppo non so dirvi molto di più E questo è un regalino da parte mia Otteniamo la MT17 protezione in compagnia di Shane Questo Maggiordomo ragazzi non me la racconta giusta È vero questa battuta è stata fatta rifatta Mi sembra che la feci proprio anche nel mio Lexplay a Pokémon Y Però ragazzi dai ci dà una protezione Quando Shane ci dice che è la prima volta che sta con un ragazzo Va bene va bene va bene Non voglio pensare male quindi pensiamo bene Ci ha dato protezione perché è una gran bella mossa giustamente Passiamo in mezzo a tutto e scendiamo Allora quanto è grande questa regia io mi perderò Mi perderò sempre allora ce la posso fare Allora vediamo un attimo per di qua È vero ragazzi che poi la regia l'ha esplorata una volta e poi basta Poi non ci si torna più da nazione è un vero peccato secondo me Qualche evento secondario e ce l'avrei fatto Vabbè in ogni caso bellissima veramente bellissima C'è la possibilità anche di farsi una foto ma non ci interessa E quindi procediamo per di qua Abbiamo già effettuato la nostra cattura Adesso cerco di prendere un po' di strumenti evitando Pokémon selvatici Oh un Espur Che bello Espur Noi mandiamo il nostro Pikachu Curato totalmente Non l'ho curato io però Qualche danno mi sembra l'avesse subito ma vabbè Che ci importa Si deve essere curato da solo quando guardavamo i fuochi con Shiny Io non lo so Vabbè in ogni caso andiamo per di qua Questo probabilmente ci sfida no Ok ci sfida adesso Almeno io non ho i sensi di colpa dell'aver visto un allenatore E del non averlo sfidato Gaspare Giramondo Che manda in campo Fletchling Ok finché ci sono questi Pokémon volanti a noi Non ci importa Ma mando in campo Pikachu Ragazzi adesso vi dico subito una cosa Prima della prossima parte voglio far aumentare l'amicizia di Togepi E lo farò praticamente correndo da un lato all'altro della zona Da un lato all'altro della zona Semplicemente Questo perché comunque Questo perché comunque l'amicizia Se mettete il Pokémon primo e camminate aumenta E quindi lo farò giusto perché Non mi va più di giocare Cioè di non giocare Togepi Voglio farlo subito evolvere quindi In un bel In un bel Togetik E poi vabbè Quando avremo la pietra brillo Lo faremo evolvere ulteriormente Mi avete anche detto che non sta molto lontano da qua La pietra brillo Quindi sì assolutamente Ah a proposito Non erano curati i nostri Pokémon Aveva solo Pikachu il massimo dei punti salute Ma Ma sì appunto Non Non era curato Perché i PP non erano stati ripristinati Quindi sì Ho detto una cosa random Ero convinto comunque di aver subito dei danni Vabbè Un altro Energisfera Pikachu sarà addirittura a livello 24 E dobbiamo iniziare a dargli un fermo Perché altrimenti è la fine Abbiamo sconfitto Vinico comunque Sei felice lo stesso di aver perso Figurati noi Allora Allora Andiamo per di qua Quanti allenatori che stiamo affrontando così proprio A caso Allora Un'altra turista che manda in campo Illomise Allora Dopo Volbit Giustamente Illomise ci sta tutta Mandiamo il nostro Pikachu E Va bene Allora Un bel No No ho sbagliato Dovevo fare energisfera Vabbè In ogni caso Adesso non so se sia un tweet che io Oppure no Fascino riduce l'attacco Vero Dimmi di sì L'attacco diminuisce di molto Però Energisfera Può tranquillamente Entrare Adesso siamo anche saliti di livello Quindi Il divario di velocità Dovrebbe essere anche maggiore Vabbè Brutto colpo Che quindi non ci fa Metter nessun dubbio Togepi sarà a livello 19 Perfetto E Agrippina è stata sconfitta Sì Assolutamente Mi metterò un po' a correre con Togepi Primo Perché voglio fargli aumentare L'amicizia Allora Andiamo per di qua Ma là C'è lo strumento che volevo Però devo fare Un giro strano Allora Oh Onage Ragazzi Madonna Se potessi prenderlo Lo prenderei immediato subito Perché Beh Onage Ragazzi Io l'ho presi Ad inizio Ad inizio Y Senza neppure conoscere Agis L'ho lasciato detto No Mi piace Questo pokemon Lo voglio prendere E vabbè Il resto È leggenda O teniamo tanto qua Veleno Shock Più mt abbiamo Meglio è Non ci lamentiamo mai Delle mt Ok Allora ragazzi Adesso sapete noi che facciamo Andiamo qua A fare l'incontro con Snorlax Perché Beh possiamo E poi ci salutiamo Allora Diciamo questo che abbiamo preso Il pokeflauto Oh siete voi Siete riusciti a recuperare Il pokeflauto Sì Ce l'ho fatta Consegna il pokeflauto Grazie Tu sei l'unico in grado di suonarlo Comincia a suonare Sei pronto Sì Che bello Che bello Riavere di nuovo Il mio flauto Comincia la musica ragazzi Vediamo Snorlax Ha spalancato gli occhi Anche se non si direbbe Ok Che poi quella canzoncina È molto più rilassante Che Che fastidiosa Però vabbè Allora Pikachu Contro Snorlax A livello 15 Snorlax Andiamo subito di Elettro Coccola Questo ovviamente ragazzi È un tributo allo Snorlax Di Questo ovviamente è un tributo Allo Snorlax Di Aranciopoli Assolutamente Non sarà facile Permetto che non sarà facile Catturarlo Perché Io ci misi un sacco di tempo Allora Snorlax Continua ad essere paralizzato Vabbè Potrei usare Energy Sfera qua Però Energy Sfera Secondo me Fa veramente Troppo troppo male Quindi Lanciamo Una Mega Ball So già che consumerò Tutte le mie Le mie sfere Infatti Avrei dovuto Prenderlo con più Oddio Non mi dite che alla prima Ah Sarebbe stato troppo bello Snorlax Utilizza Riccio lo scudo Aumenta quindi La sua difesa Allora Io utilizzo Nuovamente Tuono Shock No Energy Sfera Qua fa veramente Troppo male Perché lui è anche paralizzato Adesso Becchiamoci l'azione Wow 18 punti salute No Assolutamente Troppo Ragazzi Allora Potrei catturare Questo Snorlax Con la Sheik Ball Almeno vediamo Se entra Uno Due Tre E vai E vai ragazzi La seconda Wow Non me l'aspettavo Me lo ricordavo Molto più difficile Sarà che la nostra fortuna Della serie Vuole proprio Ricompensarci Allora Ok Snorlax È stato catturato Bellissimo C'è la possibilità Che questo Snorlax Abbia anche uno strumento Molto interessante Che adesso controllerò Allora Forte Catturato Snorlax Furfur Non so suonare Il Poké Per me È solo un soprannobile Ma tu che lo suoni Fin da piccolo Saprai trarne Una melodia Sublime Anche il mio Furfu Sembra apprezzare La tua musica Beh Certo I miei favolosi Spettacoli Di fuochi d'artificio Gli piacciono ancora di più A Sì certo Però devo dire Che una volta Eri più bravo A suonarlo Va bene Te lo lascerò Così potrei Esercitarti Oh Bene Neanche grazie Per avermi dato Il Poké Flav Vabbè Ma per caso Quello era un tentativo Di riconciliazione Beh Comunque tutto è bene Quel che finisce bene E ora attraversiamo il pont Ci aspettano nuove avventure Assolutamente sì Cara Shana Però prima di tutto Voglio prendere Lo strumento La Baccacedro Ecco Era la Baccacedro Me lo ricordavo Uno strumento molto utile E adesso Perché effettivamente Si trovano poche Baccacedro In questo In questo gioco Quindi adesso Utilizziamo Lo scambio prodigioso Per scambiare Per scambiare Snorlax Questa è stata una parte Bella lunga Però ci voleva Dai Stavamo facendo tutte parti Abbastanza corte Una bella parte lunga Che contiene Almeno due scambi prodigiosi Ci stava Tutta Almeno così Se trovo anche un altro Pokémon interessante Posso mettere un'isquadra E iniziare ad allenarlo Con gli allenatori Che ho lasciato dietro Anche se veramente In questo gioco L'allenamento è l'ultima Cosa da fare Assolutamente Cioè in questa versione Della Nazlock Perché I Pokémon salgono In un batter d'occhio Allora Corea del Sud Corea del Sud Che ci darà Un Pokémon Con un nome Impronunciabile Adesso vediamo un po' Che Pokémon Sarà Addio caro Snorlax Mi spiace Adesso è stato E' stato catturato In una maniera Molto semplice Adesso te ne andrai Oh Eevee ragazzi Grande Eevee ci voleva Proprio Eevee Oddio Eevee è veramente Un jolly Eevee è un jolly C'è stato inviato Eevee Infatti Vediamo ora il livello Ma non penso sia Potrebbe essere anche All'1 Sinceramente Mi da Col senso che È livello 1 E vai Finalmente ragazzi Ultimamente Eravamo un po' Sfortunati Con gli scambi prodigiosi Almeno gli ultimi Solamente robacce Finalmente abbiamo Tenuto un Eevee Vediamo un attimo La natura Ah Natura ardita Però con Adattabilità Bene La domanda del giorno Quindi diventerà subito Qual è la vostra Forma preferita di Eevee Ora ve la metto prima Così voi neanche saprete Perché Perché c'è stata fine adesso Ma vabbè Qual è la vostra Forma preferita di Eevee E in quale dovrei farlo Evolvere io Adesso ci devo pensare Ovviamente Però Eevee Grande ragazzi Bene Detto questo Io vi ringrazio Per la visione Perché la parte sta durando Anche un bel po' troppo Ci diamo appuntamento Alla prossima Ciao a tutti